Yaya è una bambina di sei anni, di origini abruzzesi. Sta combattendo contro un male terribile, il neuroblastoma, un tumore rarissimo che dà poche possibilità di scampo. Per farcela ha una sola possibilità, affidarsi alle cure di alcuni ricercatori di un centro specializzato di New York. Stanno lavorando su una terapia che stimola il sistema immunitario a difendersi e a sconfiggere questo mostro. I risultati raggiunti negli Stati Uniti fanno ben sperare, ma per sottoporsi a queste cure occorrono tanti soldi, 800 mila euro. Sono tanti, troppi per una famiglia normale. I suoi genitori stanno facendo anche l'impossibile, ma da soli non possono sostenere una spesa del genere. Di qui l'idea dei suoi parenti che vivono a Roccaraso, creare una onlus e raccogliere i fondi necessari. Nasce così il sogno di Yaya, una gara di solidarietà che pian piano sta coinvolgendo tutti. Noi siamo oggi a chiedere un aiuto, un aiuto alla gente di buona volontà, di mettersi una mano sulla coscienza e di aiutarci a cercare fondi, un contributo per questa bambina. Ci sono moltissimi salvadanai, sono presenti moltissimi salvadanai a Roccaraso, a Castellisangoro, nella zona di Sernia, all'Aquila. Ci stiamo attivando con vari canali. Le iniziative e le adessioni si moltiplicano di ora in ora. Da qualche giorno hanno aderito anche le chiese di Sernia. Mentre a Roccaraso e negli altri centri abruzzesi si raccolgono offerte nei negozi, si organizzano cene di beneficenza, aste, mercatini e persino tornei di burraco, sfide di hockey su ghiaccio. Anche una parte dell'incasso della prossima partita casalinga del Pescara Calcio servirà per tenere vivo il sogno di Yaya. Insomma, ogni idea è buona per raggiungere l'obiettivo e tutti possono dare il proprio contributo. Vi ricordiamo il nostro sito internet www.ilsognodiyaya.org e la nostra pagina Facebook Il Sogno di Yaya Ollus. All'interno dei siti e delle pagine di Facebook troverete tutti gli appuntamenti dedicati esclusivamente alla raccolta fondi per il progetto di mandare a Yaya in America. Io vi ringrazio e spero del vostro buon cuore. La bimba ha solo sei anni e andare in America è l'unica sua possibilità per salvarsi, per avere una vita normale.